Sì? Professor Norman, mi chiamo Lucy. Ho appena letto tutte le sue ricerche sul cervello umano. Ci dobbiamo vedere. Tutte le mie ricerche? Ecco, sono molto lusingato, signorina, ma mi è difficile crederlo. Ho letto la sua teoria sull'uso delle capacità cerebrali. È un po' rudimentale, ma è sulla strada giusta. La ringrazio. Io ho assorbito CPH4 sintetico che mi permetterà di usare il 100% delle mie capacità cerebrali. Ora sono al 28%. E quello che lei ha scritto è vero. Quando il cervello raggiunge il 100% si rivela. Può controllare il suo metabolismo? Sì. Inoltre posso controllare le onde magnetiche ed elettriche. La televisione. Il telefono. La radio. È incredibile.